Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Allora da premettere che la pizzica è la tradizione popolare salentina per cui o uno ce l'ha dentro o non la può fare per cui è l'espressione della nostra terra noi siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione Carlo è uno dei massimi esponenti della musica popolare del tamburello proprio che è lo strumento predominante nella pizzica e Carlo è una delle massime espressioni per questo strumento dai Carlo esprimici le tue emozioni quando suoni il tamburello quello che senti, cosa senti quando batti su quella pelle io quando batto su questa pelle provo un'emozione abbastanza forte come se sento proprio il battito del cuore di questo strumento alla fine con questo strumento divento tutto un'unica cosa sola salutiamo i radioascoltatori di Radio Doppio Zero buonanotte a tutti, ciao arrivederci suoni e sapori del Salento di Puglia dal 1 al 4 giugno in diretta su Radio Doppio Zero